Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi, purtroppo è la finale che speravo non dovessimo fare nel senso che speravo che non arrivassero loro là, che non ci andassimo noi quindi ora io ti do un mio parere su quello che dobbiamo aspettarci in Inghilterra-Italia Italia-Inghilterra chiamala come vuoi, questi giocano veramente in casa quindi Inghilterra-Italia di Euro 2020 prima di cominciare ti chiedo lasciami un like così YouTube mi considera un po' di più tanto ci metti un attimo e se ti va iscriviti al mio canale, nel mio canale trovi tutto sul calcio 360 gratis soprattutto serie A e trovi tanto 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 sul fantacalcio per cui se ami il fantacalcio, ti giochi il fantacalcio, è gratis, iscriviti al mio canale e ora andiamo, ti do il mio commento, il mio parere su quello che dobbiamo aspettarci da Inghilterra-Italia Partiamo col dire che sicuramente il fattore campo peserà molto tra l'altro in Inghilterra hanno fatto una legge o regolamento per cui potrà accedere allo stadio soltanto chi è residente in Inghilterra Bel problemino perché noi avremo degli italiani residenti là ma saremo sempre in assoluta minoranza perché se io oggi o meglio se io magari mi ero preso l'aereo non so venti giorni fa per arrivare lì per essere sicuro di far tutta la quarantena e poter andarmene allo stadio non ci posso andare comunque quindi questo è un gran problema solito discorso del fatto di questo europeo itinerante dove però l'Inghilterra ha giocato soltanto i quarti fuori casa che mi dà veramente veramente da fare mi dà un gran fastidio tanto che i giocatori inglesi sono già lì che dicono adesso andiamo a prenderci la coppa adesso si va a vincere riscriviamo la storia tra l'altro l'Inghilterra-Italia è una finale inedita ora come ci arriva l'Inghilterra qua l'Inghilterra ci arriva avendo preso un solo gol sono estremamente solidi dietro hanno preso un solo gol ieri dalla Danimarca su un gran calcio di punizione per cui ragazzi è tosta è molto molto tosta considerato anche il fatto che stiamo avendo qualche problemino in attacco tutti i loro giocatori o meglio tutti i titolari giocano in Premier League quasi tutte in squadre di vertice per cui stiamo parlando di gente con esperienza internazionale gente che gioca le coppe europee gente che è molto quadrata gente che è sul pezzo giocano con un 4-2-3-1 dove tu hai due centrali di difesa molto rocciosi due terfini che vanno Walker e Show questi vanno poi come se non bastasse gli hanno creato un bel filtro davanti alla difesa quindi i due giocatori davanti sono Phillips e Rice questi rompono le scatole ragazzi sono due interdittori guarda qui che maglia ho io giocavo da mediano guarda che maglia ho questo qua ragazzi adesso non saranno a livello di ringhio gattuso però sicuramente daranno da fare ah se non lo conosci questo allegro ragazzo qua è il passero la mascotte del canale ok ci sta deve stare qui ha portato fortuna all'Italia l'altra volta sui rigori per cui ci sta poi ci sono i tre giocatori dietro la punta Kane i tre giocatori sto parlando di Saka Sterling e Mounth Mounth che è in ballottaggio con Foden ok questi tre qua ficcano grandi palloni per l'attaccante sono tutti veloci e danno danno veramente un bel fastidio perché non ti danno punti di riferimento in difesa non puoi piazzare due giocatori a uomo su Kane perché sennò hai quegli altri soprattutto quelli laterali che ti si infilano e ti entrano in area grande problema poi c'è Kane Kane che ha superato i 20 gol stagionali Kane che è un mostro è una bella punta che va e infila le difese avversare ora mi fanno molto paura sia perché giocano in casa sia perché sono effettivamente una squadra forte in ogni settore del campo la Spagna mi ha stupito io la Spagna pensavo che avesse soltanto un buon centrocampo una difesa decente ma l'attacco scarso però ci hanno messo in seria difficoltà questa Inghilterra secondo me va preso su ser tanto quanto e forse di più visto il fattore campo del Belgio col Belgio sembrava una finale la partita dentro fuori per eccellenza e ci è andata bene ora come ci arriviamo noi purtroppo noi ci arriviamo stanchi morti c'è di bello che abbiamo un vantaggio anche loro hanno fatto i supplementari apri e chiudo oh ma il rigore il rigore dell'Inghilterra ma dov'era l'Inghilterra il rigore dell'Inghilterra contro la Dimarche dov'era ma il VAR perché non è stato usato adesso io forse non ho capito bene il regolamento del VAR ma andava rivisto se l'arbitro fischia una cavolata il VAR dovrebbe essere lì a correggere l'arbitro il VAR ci deve dare la massima trasparenza il minimo errore possibile ieri pessimo pessimo poi dopo uno si fa i filmoni che si è pilotato e bla 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 adesso a parte questo ragazzi ma noi arriviamo stanchi morti abbiamo il vantaggio che abbiamo un giorno di riposo in più che può può contare può contare i nostri sono anche stancati di più però perché hanno viaggiato di più da una nazione all'altra per giocarsi in questione europea a parte le tre partite di case linghe l'Inghilterra è venuta solo a Roma per i quarti per il resto è stata a casa quindi allora ragazzi noi abbiamo il grande grande difetto dell'assenza di Spinazzola che era fondamentale per la nostra squadra perché sulla fascia sinistra noi spingevamo un casino Insigne doveva correre meno perché aveva Spinazzola che correva anche per lui arriviamo lì con Insigne che è stanco si vede che è molto stanco il nostro funambolo è stanchissimo Immobile che sono due partite che veramente è lì con cioè è alla canna Immobile adesso spero che Mancini li faccia riposare tutti un paio di giorni e poi dopo riprenda con l'allenamento perché qua bisogna un attimo fargli fargli riprendere le energie perdute perché il nostro attacco è piantatissimo a parte Chiesa ecco Chiesa è l'unico che ha della gran benzina Chiesa va Chiesa va Immobile a me piace ragazzi non sto dicendo non far giocare Immobile ma Immobile bisogna farlo un attimo rifiatare farlo recuperare speriamo che Mancini sappia dosare le forze dei suoi uomini a centrocampo siamo messi bene perché c'è Giorginio Barella Barella era molto stanco contro la Spagna si è visto ma adesso si recupererà è giovane e poi abbiamo Verratti ecco se io normalmente nelle ultime due partite ho detto forse Verratti meglio metterlo giù facendo giocare un pezzino Locatelli che ti dia velocità ok qua invece Verratti lo voglio perché comunque Verratti sa anche interdire e con quei tre dietro a Kane io mi focalizzo su di loro perché marcare uomo Kane è una follia suicida se lo fai con quei tre lì ci vuole anche qualcuno che faccia valere il fisico che cerchi di rubare dei gran palloni ecco i centrali di difesa siamo tranquilli centrali di difesa siamo tranquilli Bonucci Chiellini ottima coppia Di Lorenzo una granfia lì a destra siamo a posto Emerson Palmieri per me ha giocato bene contro la Spagna poi abbiamo non è spinazzola è chiaro ma ha giocato bene contro la Spagna e poi abbiamo Donna Roma che è una saracinesca l'Inghilterra ha preso soltanto un gol in tutto l'europeo noi non è che ne abbiamo presi molti di più poi parliamoci chiaro noi ne abbiamo presi tre adesso vabbè non sono tanti tre sono pochi ma uno è meno questo è un grande in matematica visto no il fatto è che o noi giochiamo sulla nostra imprevedibilità sulla nostra tecnica sul nostro appuntare l'uomo e allora puoi cercare di avere un'occasione magari un gollettino glielo fai o noi qui rischiamo di subire non segnano tantissimissimo anche se all'Ucraina ne hanno fatto quattro non è una squadra che ti dice ok ci fa tre gol ogni partita come era tipo il belgio no quello no però però sono tignosi molto molto dura sarà una partita durissima durissima ma sai te che gusto ci sarebbe a vincere a casa loro dai ragazzi siamo arrivati fin qua bisogna fare l'ultimo passo è dura siamo sfiancati i bookmakers stanno tutti favorita l'Inghilterra ma potremmo farcela potremmo farcela l'importante è che Mancini faccia riposare i giocatori e allora dopo secondo me potremmo farcela ora ti chiedo lasciami un commento qui sotto per dirmi tu cosa ne pensi di quello che ho detto io cosa pensi di come andrà Inghilterra Italia se devo darti il mio personale parere io credo che Inghilterra Italia sarà uno 0-0 e supplementari faremo un gol che ci darà la vittoria se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like ed iscriverti al mio canale se ami calcio e fantacalcio se ti va cercami anche su Instagram fantagol underscore real ciao e andiamo a prenderci euro 20 20 a casa loro a casa loro